Ma come piangono gli attori nei film? È tutto vero? Riescono a piangere a comando? Oppure ci sono dei trucchi che usa Hollywood per darci l'idea che un attore o un'attrice stia piangendo disperatamente? Ormai lo sappiamo, un bravo attore deve saper trasmettere emozioni e far sembrare vero qualsiasi stato d'animo. Ecco, dovete sapere che alcune delle più famose scene della storia del cinema sono state realizzate proprio grazie alla capacità degli attori di piangere per davvero. Ma come si fa a piangere a comando? E quali sono le tecniche utilizzate dagli attori quando sono sul set? Pensare a qualcosa di triste, immedesimarsi in una situazione drammatica, oppure riportare alla mente brutti ricordi dell'infanzia o del passato può aiutare a piangere per davvero? Oppure concentrarsi su un avvenimento tragico? Sono solo alcuni dei metodi utilizzati dagli attori, in quanto il pianto che ne deriva alla fine è frutto di emozioni reali ed è molto realistico. Un altro metodo consiste nel fare esattamente il contrario, ovvero ridere. Anche nascondere semplicemente il viso tra le mani mentre si ride può funzionare. Se ci pensate, a volte può essere difficile capire se uno ride o piange quando ha il viso tra le mani. Oppure è possibile indurre la lacrima con una grossa risata. Pensare a qualcosa di molto divertente appena prima delle riprese potrebbe aiutare a far uscire le lacrime di risata dagli occhi degli attori. Sono molti i metodi naturali per inscenare un pianto realistico. Imitare l'espressione che si fa mentre si piange aiuterà a far venire giù le lacrime e a perfezionare il volto mentre si recita. Irritare delicatamente gli occhi può essere un'altra valida soluzione. E per farlo ci sono diverse tecniche. Stropicciare gli occhi, poi aprirli e fissare un punto per 20 secondi e ripetere più volte la procedura. Fissare un punto luminoso per lungo tempo e poi sbattere ripetutamente le palpebre. Sbadigliare ripetutamente tenendo gli occhi aperti. O stroficciare delicatamente gli occhi finché non si arrossano. A volte però ci sono attori che hanno parecchie difficoltà a piangere quando gli viene chiesto di farlo. Ed è qui che entrano in gioco i truccatori. Le lacrime artificiali sono gocce di glicerina che si possono inserire negli occhi per indurre l'occhio a lacrimare in pochi secondi. Le inquadrature, il montaggio, poi fanno tutto il resto. C'è poi uno stick al mentolo e gli induttori per le lacrime che rappresentano il metodo professionale più utilizzato e sicuramente più adatto per il cinema, dove molti attori preferiscono la soluzione più semplice. Lo stick al mentolo richiede un'applicazione sotto agli occhi. L'induttore di lacrime invece funziona proprio come uno strike. Entrambi producono risultati immediati e molto realistici. C'è poi il buon vecchio metodo della nonna che è quello meno professionale, cioè usando una cipolla tagliata. Sicuramente è il metodo meno comodo e meno gradito da chiunque, ma basta aspirarne l'odore per avere un effetto realistico e immediato. C'è poi un prodotto a base di vaselina che si applica sotto gli occhi e che aiuta a simulare un pianto prolungato. Insomma, non c'è dubbio che ci sia un mondo dietro il pianto nei film. Fatemi sapere se conoscevate questa curiosità e se ne avete altre raccontatecele nei commenti qui sotto. Io vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è accreazione, ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni vi raccontiamo storie, aneddoti sul cinema e le serie tv. Al prossimo video! Al prossimo video!